benvenuti a parliamodaleauto.it la tecnologia ha fatto dei passi al gigante ha portato ad aiutare ad aiutarci in molti aspetti della nostra vita quotidiana come ad esempio la tv per essere costantemente informati ma è stata anche fonte di istruzione per le persone quindi con il primo programma anzi con l'unico canale che esisteva al tempo della rai poi è arrivata la radio anzi la radio è arrivata addirittura prima della tv per sempre lo stesso scopo mantenere l'informazione attiva e ad oggi abbiamo internet sempre per lo stesso scopo che ha dato anche la grande opportunità per fare tutto ciò che vogliamo senza limiti possibilmente quindi per comunicare a distanza in modo veloce ma se usata può portare anche dei grandi svantaggi perché non sempre una tecnologia ci porta a delle facilitazioni ottimali o pensate solo con l'ottica del bene quindi come avete visto dal titolo oggi parliamo delle auto che hanno il chile che ormai sono quasi tutte che nella nostra lingua italiana significa auto senza chiavi sostanzialmente che la chiave è stata sostituita da una scheda elettronica di piccoli dimensioni che in tasca emette dei segnali e quando l'auto è in prossimità al recevitore di questo segnale e quando vede il segnale che gli arriva lo accetta e apre lo sportello e poi permetteci di avviare la nostra auto senza mettere la chiave fisicamente nel brocchetto all'accensione tutto bello perché sono atticati soprattutto perché non dovranno più sapere dove hanno messo le chiave le possono parlare tranquillamente le donne nelle borse e i uomini nelle tasche nel giubbotto nelle borse dei computer nei zaini dove vogliono loro però vi siete manchisti quanto sarebbe semplice rubare un'auto con il chiles oggi voglio fare un'analisi di ciò e anche un'analisi della storia dei furti d'auto in passato una piccola panoramica nulla di che purtroppo mi piacerebbe fare questo tipo di episodio con gente che sono esperte del settore magari quando cresceremo se mi aiutate mettendo più piacere iscrivendomi al mio canale riusciamo anche a interpellare persone che hanno più esperienza e soprattutto lavorano nel campo del settore di riferimento di cui andremo a parlare ad oggi rubare un'auto con il chiles potrebbe sembrare più semplice del passato e andiamo a vedere subito il motivo ad oggi per bisogna captare un unico segnale sostanzialmente quindi il manutenzionato si mette vicino all'auto e con un transponder sofisticato capta il segnale che poi banalmente basta anche non essere attaccato alla lettura ma nel raggio d'azione perché fino a un metro il segnale viene messo su molte occhi una volta captato il segnale con un altro attrezzo trasferisce questo segnale a questo attrezzo che sostanzialmente fa l'emulazione della chiave elettronica poi si avvicina la nostra macchina e senza rompere nulla e sforzare il blocchetto come succedeva una volta con i gribatelli sale nell'auto la via e se ne va via tutto semplice che cosa caniva una volta con il vecchio sistema ad esempio che c'erano banalmente due sistemi di sicurezza due sistemi per accendere l'auto la chiave fisica che bisognava mettere nel blocchetto all'accensione per accendere l'auto si potrebbero anche usare per aprire il portiere nel caso il telecomandino non funzionava e poi il telecomandino per l'opertura delle porte e del porta bagaglio quindi in quel caso dovevano i ladri dovevano agire in due azioni e quindi quella di captare segnale che veramente funziona nello stesso modo che funziona ad oggi con le keyless e poi passare al secondo approccio quindi quella di rubare la chiave fisica fare un clone un calco e quindi si devono avvicinare a voi personalmente e prenderla o forzare la serratura con i sistemi classici che usavano fino a poco tempo fa quindi veramente può essere il grimadello però è superato quindi fare una forzatura di un certo tipo su una più che una forzatura fare una pressione un certo tipo sullo sportello con un particolare trezzo e si apre oppure mettere una specie di non so come si chiamano questi trezzi perché ovviamente non sono un mestiere brutto mestiere perché rubano comunque auto a persone che molto spesso anche vabbè non stiamo affrontare questo discorso della moralità o meno però usano questi strumenti qua e quindi non è un furto lindo ma è un furto con scasso si fa il danno all'auto vettura e la stessa cosa anche con il vecchissimo sistema di una chiave addirittura due perché autori una volta avevano due chiave potuto per abitare questa questione quindi avevano un blocchetto diverso un blocchetto per l'accensione quindi una chiave e un blocchetto per le portiere altre chiave addirittura anche avevano tre blocchetti differenzi quindi uno per l'accensione uno per tutte le serrature e uno per il portabagaglio e lì è stesso sistema o vi facevano il calcolo quindi si dovevano avvicinare personalmente a voi o con il sistema in grimadello dovevano fare una forzatura alla macchina quindi recare il danno alla vettura per portarsela via sostanzialmente quindi veramente in questa analisi ok affrettata risulta che prendere in possesso di una vettura moderna con chiles è molto più semplice rispetto addirittura alle auto del passato ma non è tanto la questione della semplicità ma è questione che la macchina la si prende intera quindi è più guadagno per il ladro malintenzionato che poi comunque si sa che questa auto vengono smembrate e fatte a pezzi perché si guadagna di più il loro si può dire il loro mercato il target è quello di fare pezzi quindi hanno non hanno non devono non hanno scarti nella produzione tra virgolette in quindi tutto quello che si portano via possono rivendere sul banamento quello che non accadeva una volta che magari una portiera non potevano venderla o un vetro perché rompevano il vetro perché recavano nell'anno banamento addirittura con tele vetture non serve neanche questo sistema di elettronica sofisticata cioè quella di captare il segnale basta solo arrivare alla lavatura forzare la serratura del cofano che poi veramente sono due mollette quindi basta poco sfilare la centralina e metterne una già come si può dire hackerata già predisposta con il codice di una chiave diversa da quella originale così l'altro con la sua chiave già con la centralina già predisposta entra in macchina la accende e se la porta via questo qua è un sistema che purtroppo viene molto usato nelle cq100 in particolare il cq100 abart che poi troviamo subito punti it bei invasi di pezzi di ricambio del cq100 soprattutto nelle cq100 quelle edizioni particolari adesso non me ne viene in mente nessun nessun nome da citarvi ma se andate su youtube vedete video pieni di proprietari cq100 che fanno l'annuncio della sparizione del loro auto il motivo è questo la semplicità ma non è l'unica auto comunque che ha questa questione qua questo video sostanzialmente non è un modo per darvi dei consigli su come non farvi fregare la macchina ma è un video per farvi ottenere consapevolezza che appunto la tecnologia non sempre è nel nostro aiuto ma va a cirema contro addirittura quindi non è deve il mio pensiero è che non deve essere la tecnologia come andare noi ma dobbiamo essere noi a dominare la tecnologia quando sarà il contrario cioè che la tecnologia domina noi sarà finita come quando arriverà auto che guideranno completamente da soli che veramente se vivremo in un sistema super interconnesso e magari abbiamo commesso un'infrazione tac l'auto in automatico in accordo con le forze dell'ordine ti sequestra perché tu sai che vuoi andare a lavoro lui sale ti chiude il portiere ti sequestra magari ti sei messo la cintura ti tiene stretta e ti porta direttamente dalla polizia così ti arresta ti ammulta o ti processa quello che deve fare magari questo è un pensiero totalmente utopico lo scopriremo solo tra vent'anni o trenta o quel che sia ma ciò che mi interessa a me è quello di farvi passare questo messaggio quindi l'unica cosa che mi sento di dire come precauzione è quella di non lasciare nulla nelle vostre auto tour perché come avete ben capito non sono delle cassaforti e soprattutto magari dopo cinque minuti che avete parcheggiata già sparisce e ve la ritrovete o a pezzi o qualche rumenio la stava già comprando nel suo paese a un prezzo lentamente più basso di quello che avete pagato a voi non voglio non ce l'ho con i rumeni può essere anche qualsiasi altro paese veramente i diesel finivano in africa soprattutto i diesel quelli che venivano per i mutati del concessionario quindi euro 1 2 3 4 finivano ad esempio in africa vabbè questo su comunque altro discorso su dove vanno a finire le auto usate magari se vi interessa fatemi sapere qui sotto e cercherò di portare un report una storia sul capire la loro seconda o terza vite che hanno dopo un reato di furto quindi se è moderna può succedere da spesso se è vecchia magari non sarà più interessante è una macchina poi è sempre questione di è sfortuna quindi è sempre una dose che nella vita c'entra sempre soprattutto è da considerare che se avete una macchina ben vistosa come la bmw audi soprattutto se ce l'avete comprata latte magari non avete fatto una scelta saggia magari vi conveniva più acquistare una daccia perché risparmiate nel prezzo del acquisto avevate persone in tasca soprattutto avete fatto acquistato la stessa auto banalmente le carfine sono tutte uguali cambia solo la calandria e magari non ve la rubano o non ve la scassinano quindi pensate semplicemente al fatto che neanche i portavalori sono così sicuri da tenere dentro di loro i soldi quindi figurate voi una macchina che non ha i vetri blindati che cosa vi possono fare come detto questo non era un video di consiglio su come non farvi ruppare l'auto ma era un video di consapevolezza di farvi passare il messaggio di come la tecnologia non sempre è nel nostro più totale aiuto ma può anche recarcere danni e danni importanti fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate voi se avete avuto anche delle esperienze del genere qualsiasi cosa va benissimo poi vi ricordo di mettere il mio mi piace perché contribuite a farmi crescere e farmi vedere più persone anche darmi un giudizio del video sostanzialmente che li trovate utili e se vi iscrivete mi torna sempre utile no per un aspetto puramente economico perché ciò che faccio è pure per passione ma è un aspetto di riconoscimento del lavoro dall'impegno che ci sto mettendo dell'investimento personale che sto mettendo per portare una passione avanti e per condividere con più persone possibile detto questo ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti